fra cristoforo ed o rodrigo si appartano sono da soli l'uno di fronte all'altro dalla parte abbiamo un frate dal carattere impulsivo forte impavido irreprensibile irremovibile dai propri propositi di attuare la giustizia un frate chiamato cristoforo che è tale di nome e anche di fatto perché è portatore di cristo ovunque va dall'altra parte abbiamo don rodrigo un cattivo mediocre che non si conosce non conosce il proprio cuore il proprio io la propria coscienza non ha volto infatti non ha ritratto e descrizione all'interno del romanzo vive del potere effimero di cui il palazzo è simbolo fra cristoforo cerca di portare con sé pacatezza spirito di mediazione pazienza fra cristoforo non si muove per il proprio interesse ma per un bene più grande che è il bene dei due promessi sposi renzo e lucia non assistiamo ad un monologo al discorso di fra cristoforo ma tanto meno assistiamo ad un dialogo perché tra i due non avviene un incontro ma uno scontro do rodrigo pronuncia una domanda di circostanza in che posso ubbidirla e allora il frate cerca di toccare il cuore di quel prepotente chiede un atto di giustizia un gesto di carità basta che do rodrigo dica una parola ecco che il frate richiama poi alla coscienza a quella coscienza che per san giovanni paolo secondo è il sacrario di dio cioè quel luogo della nostra persona che ci rende a immagine e somiglianza di dio ma do rodrigo ha rimosso la coscienza non c'è il suo io non c'è il suo cuore do rodrigo vive solo della sua esteriorità vive solo nell'esercizio del suo potere e se vuole parlare della sua coscienza do rodrigo andrà a confessarsi tra cristoforo parla allora anche dell'onore onore deriva dal termine latino onus honoris che significa carica pubblica ruolo sociale l'onore e quindi quella mansione quel ruolo che noi ricopriamo nella società e descrive anche la dignità che consegue dalla posizione e dalla mansione che noi svolgiamo ma don rodrigo non vuole sentire parlare né di onore né tanto meno di coscienza se dovrà custodire il proprio onore ci penserà lui do rodrigo che è l'unico custode del suo onore fra cristoforo dopo aver toccato il tema della coscienza dopo aver cercato di toccare il cuore di do rodrigo parla allora di dio in nome di dio dice il frate è un'espressione che ricorrerà poi sulla bocca di lucia davanti all'innominato quando lucia che è stata rapita ed è davanti a quella grande malvagio lucia dirà in nome di dio dio perdona tante cose per un'opera di misericordia ecco che probabilmente il narratore ci vuole presentare lucia come vera discepola spirituale del frate cristoforo perché le parole di lucia sono simili a quelle della frate perché lucia ha una fede salda che consiste di questi volti ed è costituita anche dalle parole che sono realtà di fra cristoforo quelle parole che lei ha fatte sue perché quelle parole sono costitutive della sua vita fra cristoforo chiede ad o rodrigo di non negare la giustizia e di non anteporre la sua gloria alla gloria di dio proprio come recita il salmo biblico che è diventato l'inno dei templari non a noi signore non a noi signore da gloria ma da gloria al tuo nome do rodrigo a questo punto replica usando sempre delle barricate delle difese do rodrigo non riesce a farsi toccare dalle parole di fra cristoforo do rodrigo dice in maniera forte accesa se voglio la predica andrò in chiesa e poi ancora sottopone una ilazione al frate dicendo che probabilmente a quel religioso interessa una fanciulla e chiede al frate di fare ad altri quelle confidenze e poi con l'insistenza del frate do rodrigo dice di suggerire alla ragazza di mettersi sotto la sua protezione sotto la sua egida e il frate perde la pazienza sentendo queste ultime parole di quel prepotente avete colmato la misura ora parlo come si parla ad uno abbandonato da dio ho compassione di questa casa la maledizione le sta sopra tra cristoforo ha il braccio e la mano alzati proprio come nel sogno che tempo più tardi do rodrigo farà quando sarà ammalato di peste quando vedrà il frate parlare a lui rivolto a lui in una chiesa in una dimensione onirica do rodrigo caccia il frate dal suo palazzo il frate prima di andarsene riesce a scambiare qualche parola con il vecchio servitore che era stato anche servitore del padre di do rodrigo una persona ben diversa un signore ben diverso dal figlio quel servitore si stampa nella mente del lettore è una comparsa importante perché rappresenta la presenza di dio anche in un luogo come il palazzo di don rodrigo perché il servitore promette al frate di metterlo a parte dei disegni del signore e fra cristoforo vede in questa promessa un segno di speranza un segno della presenza di dio il narratore riflette sul fatto che norme e convenzioni vietano l'atteggiamento del servitore che ha ascoltato di nascosto il suo signore ma il narratore chiede al lettore di riflettere se ci siano delle eccezioni in alcune circostanze storiche in alcune circostanze in cui il male rischia di prevalere il narratore sembra non prendere posizione ma in realtà il narratore afferma che noi abbiamo una coscienza che ci permette di distinguere chiaramente dove stia il bene e dove stia il male